Albicocche, pesche e nettarine saranno le protagoniste di questa nuova puntata di Agreste. Vogliamo infatti cercare di capire come si è chiusa la campagna per le albicocche e come è partita quella di pesche e nettarine, mettendo anche a confronto i prezzi delle diverse tipologie di produzione e dei canali commerciali che gli agricoltori hanno a disposizione per vendere le loro produzioni. Prima però sentiamo da Riccardo Loberti che cosa ci sarà nella parte tecnica di oggi. Certo Tania, eccomi qui, un saluto a te e un ben ritrovati a tutti voi cari amici e amiche che ci state seguendo. Nella parte tecnica di oggi ospiteremo Clegliatosi con un aggiornamento sui modelli previsionali, alcune indicazioni molto molto importanti per la gestione di un'emergenza di questo periodo, vale a dire il colpo di fuoco e a seguire i consigli del medico delle piante e delle colture frutticole. Vi aspetto, a dopo, a te Tania. E intanto mi ha raggiunto Massimo Magagna, ci troviamo infatti nella sua azienda a Quartesana, l'azienda Canova. Ricordiamo Massimo è un produttore biologico dal 2000, quindi ormai sono 10 anni, ha 13 ettari, 10 ha frutticole e 3 ha seminativi. Allora Massimo, intanto grazie per averci ospitato qui nella tua azienda e partiamo dalle albicocche. Tu non ne hai una grandissima quantità, quanto circa? Sono circa 5.000 metri, non è che sia una superficie importante anche a livello di gruppo di produttori, che siamo il Consorzio Fattori Estensi. È un prodotto interessante se non abbiamo eccessi di produzione. Intanto tu che varietà hai qui? Io ho Precoce Dimola e la Portici. Quest'anno come è andata? Ci sono stati dei problemi legati alla stagione, giusto? La parte più importante è stata causata dalle grosse piogge che abbiamo avuto in primavera, che hanno praticamente dato un decremento della qualità. L'altra parte l'ha fatta le piogge in periodi di accolta, lì hanno dato dei grossi problemi, di monigliosi e anche di deformazioni di frutto. Ecco quindi, è mancata la qualità, però c'è stata la quantità? Sì, perché al contrario degli anni precedenti, l'albicocco non ha subito le cosiddette problematiche atmosferiche che sono le brinate primaverili. C'è stata una buona produzione, intorno al centinaio di quintali per ettaro. È chiaro che dopo dipende dalle varietà e dipende anche dall'età delle piante. Noi come biologici non abbiamo degli impianti vecchi. Quali sono i vostri canali commerciali per le albicocche? Andiamo dal mercato tradizionale, che sono le piattaforme del nord Italia, ai negozi specializzati e quello che sta nascendo da un anno a questa parte sono gli interessi dei gruppi d'acquisto, che non sono solo quelli locali, ma sono molto importanti quelli del nord, in particolare della Lombardia. Qual è la scala di importanza di questi canali commerciali? È chiaro che come strutture, consorzi o fattori estensi ci siamo dati proprio a livello commerciale il rapporto diretto con il consumatore. Quindi il gruppo d'acquisto per noi è la parte più importante, proprio perché è quello che volevamo. Da un rapporto diretto proprio dal punto di vista delle produzioni, cioè noi impostiamo le nostre produzioni per il fabbisogno del consumatore finale, a partire dalla cultura, alla conservazione, al condizionamento del prodotto, a spedizione e tipologia. Quindi il grado di maturazione è una cosa fondamentale che noi effettivamente raccogliamo con un certo grado BRICS per poter arrivare direttamente al consumatore. Non abbiamo bisogno di dover stoccare il nostro prodotto per chissà quanti giorni, perché magari il mercato lo vuole gestire lui. Noi vogliamo gestire il prodotto che sia un prodotto di qualità e che sia valorizzato dal consumatore finale, che sono questi i gruppi d'acquisto. Quanto costa fare un ettaro di albicocche biologiche? Penso che tra le culture che si possono fare in bio, l'albicocche è quello che comporta i costi inferiori. Siamo nell'ordine dei 600-700 euro, tutto compreso, a partire dalla concimazione, che noi abbiamo solo alla base organica, fino ad arrivare alla difesa. Quest'anno per esempio i prezzi medi quali sono stati? Siete riusciti quindi a starci dentro con questi costi di produzione? Il prezzo medio non è stato grandioso, perché si era partito da un 2 euro al chilogrammo dell'inizio, ma è stato subito demolito dalla qualità del prodotto. È stato accompagnato anche all'abbassamento e l'inflazione di mercato, cioè proprio questa quantità di prodotto che effettivamente, come ti dicevo prima, c'è stata buona produzione. Quindi questo qui ha calmirato un po' tutto quello che era l'interesse. Per quanto riguarda i gruppi d'acquisto, quindi voi trovate più conveniente puntare su questi gruppi d'acquisto, mi sembra di capire, anche a livello economico? Non possiamo più pensare di fare 7, 8, 10 passaggi e ognuno ci fa il suo ricarico. Il consumatore, poi in una condizione economica come stiamo attraversando in questo periodo, è in difficoltà. Quindi pensare di pagare 3 euro per un chilo di albicocche e magari rischiare che non siano neanche buone, noi non riusciamo ad andare avanti. Quindi cosa facciamo? Noi consideriamo i nostri costi di produzione, gli facciamo un unico ricarico ed è quello che viene passato al consumatore. Però voi servite anche i gruppi di acquisto locale e da quest'anno avete anche pensato a un mercatino contadino biologico, giusto? Sì, abbiamo aperto proprio intorno alla metà di giugno il mercato biologico in collaborazione con Terra Viva, in via delle erbe e tutti i sabati mattina abbiamo il mercato dei produttori locali biologici. Cioè il Consorzio dei fattori essensi, collaborazione Terra Viva, abbiamo aperto questo mercato del sabato mattina. Ci siamo spostati nelle pesche, anche se siamo ancora un po' indietro. Esattamente tu quanti ettari hai di pesche? Sono un ettaro e sette, Maria Marte e Fayette per le pesche, la Star Red Gold come nettarine e l'Andros come percocche. Com'è andato quest'anno a livello anche di tempo? Immagino che anche le pesche e le nettarine abbiano subito gli stessi problemi più o meno delle albicocche. Allora ti parlo sempre su una base di un gruppo che è il Consorzio di Fattori Estensi. Le prime varietà, diciamo quelle precoci, sono state abbastanza messe in difficoltà da quello che è stata la gran acqua che è venuta in primavera. I problemi di moniglie sono stati abbastanza evidenti, soprattutto sulle varietà di nettarine. Naturalmente sulle varietà in raccolta, quindi si parla di 20 giorni fa. Su quelle che sono varietà medio-tardive, quindi a partire da adesso, e per tutto il mese di luglio-agosto, pare che non ci sia nessun problema. La produzione è normale, rimaniamo nelle produzioni per ettaro abbastanza normali. Circa quanto? Per quanto riguarda pesche e nettarine si aggira intorno ai 200 quintali per ettaro. Per quanto riguarda i canali commerciali sono gli stessi le albicocche? Sono gli stessi. Per quanto riguarda le pesche e le nettarine quali sono i costi di produzione ad ettaro? Per un biologico ovviamente. Siamo intorno ai 1000 euro. Per quanto riguarda i prezzi, anche se è ancora molto presto, però le prime produzioni come siamo andati, i prezzi medi di quest'anno? Si è partiti da 1,80 euro o anche 2 euro di prezzo di partenza, adesso siamo intorno all'euro e 60. Quindi questo è un problema, perché effettivamente noi non riusciamo a stabilizzare quello che sono la forma economica di un impianto. Noi sappiamo i costi di produzione, ma alla fine non sappiamo quello che è il realizzo. Con quel discorso che abbiamo fatto dei gruppi di acquisto, invece la formula cambia, perché noi consideriamo la base del prezzo, lo facciamo sui costi di produzione, non più sull'andamento di mercato. Quali sono i quantitativi di prodotto vendibile come prima scelta in biologico? Penso che poi sulla produzione di una pianta, noi di prima scelta è il 90%. Potrebbe esserci, lì vengono divise per calibratura naturalmente, si fa dalla C, la B, la A, la Doppia, la 3A e così. Noi di C non ne abbiamo tantissime, perché siamo stati abituati a diradare i nostri peschetti. B è chiaro che un calibro B può andar bene, ma non crea tante differenze, perché poi con un sistema nuovo che abbiamo inventato, si può dire, di commerciale, noi valorizziamo, diamo un valore anche alla B. Grazie a tutti.